Amici di WeSport, un cordiale saluto ben trovati al Centro Sportivo Sorrentino di Trapani. Si gioca l'ottava giornata nel campionato Under-14 Provinciale, l'Accademia Trapani di Mr. Lamia. Ha riposato lo scorso turno e adesso ospite Castelvedrano Selinunte di Mr. Pizzitola, reduce dall'1-0 contro la Garibaldina. Formazione padrone di casa, Gigante, Cipollina, Renda, Cagliardo, Ardagna, Rustico, Amoroso, Guaiana, Campo, Novara, Castiglione. Risponde il Castelvedrano Selinunte, Valenza, Colorito, Forte, Lipetri, Daidone, Leone, Centonze, Gulotta, Calamia, Martinico, Aida Oie, arbita la partita e il signore Giuseppe taglia via sezione di Trapani. Possiamo partire col film del primo tempo dopo 4 minuti. Prima chance offensiva affidata al Castelvedrano Selinunte con Gulotta che manda Martinico in profondità. Ancora la penetrazione in mezzo alle maglie avversarie, l'ingresso in area di rigore, il tentativo che però va a sbattere su Gigante e viene allontanato poi il pericolo. Minuto 12, Accademia Trapani, azione dalla destra ben congeniata. Riescono a passare i padroni di casa grazie a queste triangolazioni. Castiglione si muove per vie centrali, viene servito, va di prima intenzione, trova il gol dell'avvantaggio Accademia Trapani che parte forte al dodicesimo e già in vantaggio. Minuto 18, spingono ancora i locali, gol affiltrante per il solito Castiglione. Atleticamente più preparato rispetto alla difesa avversaria, va al tentativo. Il piedone del portiere respinge, minuto 22 Castelvedrano che va alla reazione. Aida Oye gestisce la sfera, supera il diretto avversario. Va così col piattone, trova il gol del pareggio. Tutto riequilibrato al centro sportivo Sorrentino di Trapani. 1-1 tra Accademia Trapani e Castelvedrano. Selinunte, punizione di Guayana. Attenzione perché Valenza si fa beffare. 2-1 nuovamente in vantaggio i padroni di casa. Gara pirotecnica, siamo al 32esimo. C'è il tentativo di discesa dalla destra. Il pallone che viene messo in mezzo, colpisce la traversa. Aida Oye, minuto 35, occasione Castelvedrano. Selinunte, azione manovrata da Centonze che dà gulotta. Sfera per Aida Oye, ma il portiere gigante riesce a dire no. Finisce di lì a poco il primo tempo. Il risultato dice 2-1 tra Accademia Trapani e Castelvedrano. Selinunte, gara aperta a qualunque risultato. Entra Curreri, fuori gulotta. Quarantesimo la punizione di Forte, pareggia i conti. Vale il gol del 2-2. Il Castelvedrano, Selinunte non molla. 45esimo Aida Oye, crossa dentro. La difesa prova a spazzare, non riesce a farlo bene. Martinico si divora. L'occasione per il possibile 2-3, minuto 47. Escono Lipetri e Leone, entrano Prinzivalli e Caravà. Minuto 50. E' il momento sul terreno di gioco di Messana. 55esimo Martinico recupera la sfera a centrocampo. Manda il compagno Aida Oye che si invola verso la porta. Uno contro uno con la portiere gigante. I compagni meglio appostati in aria. A noi non li guarda. L'estremo difensore respinge. Minuto 56. Calcio d'angolo. Sfera viene allontanata ancora sui piedi di Aida Oye che calcia però alto. Minuto 63. Alla fine il Castelvedrano sfonda e trova una clamorosa controrimonta. Con questa conclusione vincente da parte di Martinico che fa 2-3 a 7. Dalla fine, minuto 65. Entra Inzirillo fuori Valenza. Minuto 69. Martinico opera a centonse. Il pallone termina sui piedi di Aida Oye. Gigante le spinge. Centonse ancora. Gigante blocca. Fine partita. Dal centro sportivo Sorrentino di Trapani vince una bellissima partita il Castelvedrano. Selinonte che piega di misura 3-2 l'Accademia Trapani.